Volti nuovi, giovani, ma al col tempo competenze. Così il commissario per le Marche, Antonio Saccone, presenta la squadra dell'Udc per le elezioni regionali al fianco di Francesco Acquaroli e nell'occasione anche alcuni punti programmatici che il partito dello Scudo Crociato intende portare immediatamente nella nuova legislatura a partire dalla composizione della squadra di governo. Un assessorato dedicato esclusivamente al Sisma, con competenze piene, con il massimo coinvolgimento di tutti i sindaci coinvolti nel CATE e tutti questi sindaci insieme all'assessore devono interagire in un modo determinante con il governo. Il coinvolgimento dovrebbe riguardare anche la scelta del commissario. Se ne sono succeduti quattro senza risultati, ha detto. Altro punto fondamentale è quello delle infrastrutture e in particolare della carenza di connessione fra tre punti nodali. Il porto con l'eterna problematica dell'uscita verso nord, l'interporto di Iesi e l'aeroporto di Falconara, schiacciato, dice, tra Perugia e Pescara. Per quanto riguarda la sanità, no al concetto di ospedale unico, ma sia ai poli di eccellenza e per il resto piccoli ospedali da mettere in rete digitalizzandoli. Il primo provvedimento da portare in consiglio regionale riguarderà però la famiglia. Noi proponeremo l'eliminazione dell'addizionale IRPEF per tutte quelle famiglie marchigiane che hanno un disabile o hanno una famiglia numerosa. e quindi abbiamo...